Sarà il presidente della regione Liguria, Giovanni Totti, domani alle 14.30 nella sede romana della regione in Piazza Madama a coordinare il tavolo interregionale sul demanio che affronterà il tema della Bolkenstein nell'ambito della conferenza delle regioni. Insieme al governatore Totti ci sarà anche l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola che svolge il compito di coordinatore delle regioni. In un momento particolarmente delicato l'obiettivo è quello di individuare percorsi risolutivi da condividere con il governo per far chiarezza soprattutto sul rinnovo delle concessioni ad uso turistico e ricreativo e in particolare sulla direttiva europea Bolkenstein che prevede la messa a bando delle concessioni demaniali a partire dal 2020 ed il riaffidamento attraverso gare senza alcun diritto di opzione da parte dei concessionari. Domani insieme alle altre regioni faremo il punto della situazione per dar vita ad un fronte comune spiega l'assessore Scaiola. L'obiettivo è sensibilizzare per portare avanti istanze comuni nei confronti del governo che fino ad oggi non ha trattato in maniera adeguata il tema delle concessioni demaniali marittime né si è occupato di garantire i nostri balneari, le loro famiglie e la nostra tradizione. Scopo dell'incontro è infatti quello di approvare un documento comune per dire no alla Bolkenstein ed esprimere al governo la linea da perseguire in Europa. Sempre domani a Roma in concomitanza con l'incontro interregionale degli assessori al demanio è previsto un presidio degli operatori balneari in piazza Santi Apostoli cui parteciperà anche l'assessore regionale Scaiola prima dell'incontro con le altre regioni.